Sono indagati per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria. Il tutto a danno di centinaia di imprenditori del nord Italia. Stiamo parlando di un'organizzazione mafiosa collegata al clan camorristico dei Casalesi, che è stata scoperta dai carabinieri di Vicenza e dalla direzione investigativa antimafia di Padova. e già nelle prime ore di oggi sono scattati 29 provvedimenti restrittivi in Veneto, Lombardia, Campania e Puglia. L'attività dei malavitosi consisteva nel concentrarsi su soggetti in difficoltà finanziaria, utilizzando come copertura lo schermo legale della società di recupero crediti Aspide, con sede a Padova. E proprio da qua venivano pianificate le attività di riscossione e le spedizioni punitive nei confronti dei debitori insolventi. Il gruppo, organizzato gerarchicamente e con a capo Mario Crisci, detto il dottore, erogava crediti a tassi fortemente usurati, fino al 180% annuo. Le vittime dunque, soffocate, erano costrette a cedere le proprie attività economiche, come imprese, società e beni vari. Talvolta addirittura erano costrette a procacciare per la struttura criminale nuovi clienti, nel tentativo di arginare il proprio debito. E se i pagamenti tardavano ad arrivare, scattavano brutali pestaggi. Il denaro, ricavato dalle estorsioni, affluiva nelle casse del gruppo tramite l'ingegnoso sistema delle carte post-pay e serviva a distribuire ai compensi dell'attività criminale veri e propri stipendi mensili. Parte dei proventi, infine, era destinata a soddisfare le necessità economiche dei detenuti affiliati alla Camorra e dei loro familiari. I carabinieri hanno accertato nell'ambito dell'inchiesta che oltre 100 società sono state estorte. Hanno ricostruito due episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione, verificato 61 episodi di usura aggravata, 17 episodi di estorsione aggravata, il forzato trasferimento di intere quote societarie dalle vittime ai loro aguzzini e il diffuso ricorso a illecite operazioni di attività di intermediazione finanziaria. Inoltre, durante il blitz hanno sequestrato un'abbondante documentazione di rilevante interesse probatorio detenuta dall'organizzazione, assegni cambiali e cessioni di credito aziendali degli usurati per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, oltre ad armi e munizioni da guerra.